Nuova settimana, nuovo mercato nero di Maurice, questa settimana ci troviamo ad Ascension Bluff e il mercato nero è estremamente vicino. Vediamo dove trovarlo. Vi ricordo di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per non perdervi la settimana prossima quando il mercato nero di Maurice cambierà posizione e contenuto. Inoltre, se volete supportarmi, è attiva la funzione abbonamenti di questo canale a un prezzo bassissimo. Detto ciò, per quanto riguarda il percorso è semplicissimo, spawnate le Ascension Bluff, tenete la sinistra fino a quella casetta che state vedendo adesso. Fine. Questa settimana nel mercato nero di Maurice troveremo il punto forte di questa settimana, il fucile d'assalto barra shotgun leggendario Seacol, c'è la probabilità anche di trovare un Boom Seacol che è estremamente raro per cui è un'ottima farm, c'è la Conference Call, non è un granché purtroppo in Borderlands 3, e infine la pistola leggendaria Jacobs the Flood.